Eh, e l'hanno copiata? No, ma ha tante dire di Hollywood, anche Madonna si è messa tante volte di glitter, eh, non è... Lei negli anni 80 ha cantato Gaio, effettivamente lei è considerata un'icona gay? Io sono Gaia. Eh, lei è Gaia in che senso? Io sono Gaia, io sono un po'... sì, sono gay. Per quello che si intende la parola gay, io sono gay. E in che senso? Io sono multicolor, sono arcobaleno, assolutamente. E una storia con una donna ce l'ha mai avuta? No. Beh, quindi è gay per quello che gli pare a lei. Eh, vabbè, però mi piacciono tanto gli uomini. Ha fatto il giro. Ha fatto il giro, certo. Ah, ho capito, ho capito. Senta, comunque nel 2009 in una trasmissione televisiva ci fu una lite e lei disse io piaccio ai gay e non piaccio alle checche. Piaccio a quelli che oltre ad essere gay sono uomini, mentre Raffaella Carraia e Patti Pravo sono icone delle checche vintage. Diciamo queste cose che ha detto un po' la imbarazzano. No, 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 non ho detto... Eh no, queste c'eratture in televisione. No, no, era scritto, è stato riportato. Ma era in televisione. La verità, no, in televisione c'era il diaco. Si imbarazza un po' per queste cose che ha detto? No, io non sono assolutamente imbarazzata. Per me esistono i gay, esistono le checche, esistono i gay che sanno di avere le palle e ci sono gli sergi che parlano male, si strappano i capelli, fanno i pettegolezzi e quelli non li voglio proprio neanche sulla soglia di casa. Vabbè, ma questa non è, diciamo, una suddivisione... Ecco. No, no, accettabile perché vale per tutti, uomini, donne, perché la fa su gay e checche, dico. Anche tra gli etero ci sono quelli che... è un discorso globale. E perché ha detto, mentre Raffaella Carrà e Patti Bravo sono icone delle checche vintage? No, questa non l'ho detta. Eh, ma c'è il video però. Comunque lei ha detto in un'intervista c'è una limitazione della libertà eccessiva si mettono dei filtri a cose che sono state ampiamente superate ad esempio il fatto che non si possa dire frocio-troia dal politicamente corretto al bigottismo il passo è breve. Esatto. Ma qual è la libertà nel dire... Adesso, per esempio, Vasco Rossi non potrebbe dire più è andato con il negro la troia. Ma infatti lui usava la troia come un insulto. Qual è la libertà nel dare a qualcuno del frocio o della troia? È questa la libertà? Dov'è la libertà? No, non è... Ma il politicamente corretto è una cosa perversa e anche... Dare della troia a qualcuno è un po' scurantista. Eh, ma dare della troia a qualcuno è un insulto, non è politicamente corretto. Non è politicamente scorretto. Io non ho dato del frocio a nessuno e neanche della troia a nessuno. No, lei rivendica il poterlo dire. Ma io rivendico la possibilità di usare anche certi termini perché sennò veramente ci mettiamo... Ci facciamo già della censura over the top. E non è un bene che non si dica più negro, per esempio? Che non si dica più frocio? Cioè che non si dovrebbe dire... Ma il frocio non mi pare... E neanche il negro non mi sembra... Non mi sembra un insulto così. Se uno è colorato... Non mi sembra così... Dipende il modo in cui uno dice troia, in cui uno dice negro. Se tu lo dici brutto nero... Se tu invece hai il negretto, è un'altra cosa. È l'intenzione che gli dai. E tutto sta nell'intenzione. Cambiare parole? Cambiare parole... Ma mi sembra un escamotage, un pochettino... Un escamotage, dice. Dal democratico cristiano. Ah, lei proprio le piace l'insulto. Senta, che rapporto ha con la... No, non mi piace l'insulto. Eh, ma è troia. A lei le farebbe piacere? Beh, me l'hanno scritto, eh. È stata contenta? L'ha gratificata? Eh, ci sarai. Si può rispondere. Eh? Ci sarai. Si può rispondere. Ma lei è stata contenta o no? Sinceramente. Sono contenta di essere ancora in grado di difendermi. Mmh, vabbè.